Una prima parte che potrebbe anche essere di domande, confronti su quello che abbiamo fatto finora e poi una seconda parte che invece potrebbe essere di anticipazione e di apertura del modulo che ci attende che è un modulo che ci consente per la prima volta di entrare nell'ambiente Wordpress e prendere confidenza con le caratteristiche del tema proposto che naturalmente non vuole essere l'unico tema possibile, ma siccome è stato un tema già un po' configurato e pensato per essere utilizzato nei siti, può essere uno spunto da cui voi poi potete partire per integrare, per migliorare o anche per modificare alcune caratteristiche particolari che vediamo magari strada facendo Era molto interessante e stimolante la domanda di una di voi che chiedeva ma che differenza c'è tra un blog e un portale? Possiamo trasformare eventualmente un blog in un sito invece più organizzato? E la risposta è sì, ci sono anche degli strumenti propri di Wordpress che permettono questo ma io direi facciamo una cosa per volte, quindi non so se Valerio e Gioacchino sono d'accordo io aprirei la discussione su quello che abbiamo fatto finora e domande, richieste di chiarimenti qualsiasi cosa che possa essere oggetto sul percorso finora fatto quindi se siete d'accordo darei la parola a voi e poi dopo passiamo invece al lavoro che ci attende in queste due settimane per queste due settimane quindi se qualcuno vuole parlare, correggetemi, io non sono grande esperto di Second Life l'avrete ampiamente capito, però piace molto questo ambiente, sto anche imparandolo con voi per cui interventi liberi rispetto alla prima parte di queste prime tre settimane che ci hanno permesso di prendere confidenza non tanto non ancora con Wordpress se non l'ultima ma su una modalità di servire documenti che vedremo e ci sarà poi particolarmente utile anche nel momento in cui andiamo a editare contenuti per un sito la prima parte che abbiamo sviluppato dopo quella più di sapore conoscitivo è stato quello proprio sullo stile legato ai documenti dunque Sofia che tra l'altro è già una grande frequentatrice come molti di voi dei forum dice che è molto utile ragionare su modelli e stili e io allora rimando a te un po' la palla ben ritornata Lorena e puoi provare Sofia anche a prendere parola così per dirti gli aspetti sullo stile che ti hanno più convinto e in effetti è un modo diverso di scrivere indubbiamente interessante quando dici cosa senti prego Sofia scusami no è un modo proprio diverso nel senso che io avevo sempre preferito penso anche semplicemente alla spaziatura tra un paragrafo e l'altro e farla con l'accapo senza mai pensare a cosa stiamo facendo adesso a questioni di accessibilità pensando soltanto all'aspetto esteriore al fatto di avere delle spaziature che mi piacevano al fatto di andare alla pagina Sofia ti interrompo solo un secondo perché sento la voce un pochettino a andare e venire quindi lo faccio io e un po' tutti chiudiamo un attimo il nostro microfono quando non parliamo e vediamo se così la voce di ciascuno di noi viene più chiara provo io adesso a deselezionare il mio microfono facciamolo tutti e Sofia riprendi niente dicevo che per me è proprio una novità nel senso che pur avendo maneggiato open office o word da parecchio tempo l'ho sempre fatto in grande libertà stando attenta all'aspetto così fisivo del documento che producevo e quindi è stata una bella sfida e dall'altro mi sono accorta che non è che poi mi tolga tutta quella libertà che pensavo insomma le cose vengono fatte bene comunque addirittura io sono convinto Sofia che attraverso l'uso degli stili noi non soltanto andiamo verso a un tipo di documento che poi è maneggiabile con più facilità anche dalle sintesi vocali ma garantiamo anche una maggiore coerenza grafica complessiva nel senso che il bello sarebbe riuscire a ottenere un po' le nostre diciamo intenzioni diciamo così di natura grafica utilizzando lo stile quindi senza indugiare troppo sulla barra sopra degli strumenti perché ogni volta che noi andiamo a utilizzare vari strumenti avete visto i vari rotatori dei testi creano degli stili aggiuntivi nel tempo migliorano questo servizio magari il codice si fa anche meno sporco però di fatto si crea una sovrapposizione di elementi anche grafici che poi è più difficile anche riutilizzare invece proprio l'uso di quella barra della formattazione dello stile che esiste poi anche in open office pur con nomi diversi noi effettivamente strutturiamo il documento prima cosa importante abbiamo visto quanto è importante la strutturazione anche i fini sia del sommario che poi della produzione dei segni libri in pdf ma non so come dire padroneggiamo l'aspetto grafico garantendo quella coerenza una cosa che non abbiamo fatto che poteva essere forse naturale conseguenza forse è stata anche una piccola omissione da parte mia era poi il salvataggio come modello non so se qualcuno di voi ha fatto il passaggio successivo anche di salvare il documento come modello Calvo Bonetto non sente adesso stavo parlando io aspetta che magari lo dico qua in chat sì io sento benissimo non so forse è un problema di Calvo è un problema di Calvo forse allora lo scriviamo io sento bene senza nessun problema ok allora forse è un problema suo quindi cosa gli scriviamo di controllare ecco il problema dovrebbe essere tu l'ha già detto Lorena ok basta è stato raccolto il messaggio ecco chiedevo qualcuno di noi di voi ha provato a salvare come modello cioè ad esempio in Word c'è salva come modello e il salvataggio è un documento .dot io ho provato a salvare come modello e pensavo di utilizzarlo poi per il pop della mia scuola per la terza parte del compito e non l'ho ancora fatto però intanto me lo sono salvato come modello ecco perché così poi uno può anche immaginare non di creare un modello comune le aziende dicono l'immagine coordinata che poi gioca sul logo gioca sulla carta intestata gioca su tanti altri elementi va a confluire a volte anche nel sito però senza andare su questo però dare uniformità alla documentazione che si produce sia internamente ma che poi si dà anche esternamente beh è un indice di attenzioni che spesso non è proprio neanche di pubblica amministrazione più grandi senza andare troppo in là vediamo anche il mio stesso ufficio scolastico regionale pur avendo adottato un modello comune non sempre esce con la stessa modalità stilistica per cui un bello obiettivo ma non è facile da perseguire soprattutto quando diciamo l'amministrazione a tanti uffici magari non sempre molto concomitanti o collaboranti tra di loro e come hai fatto Sofia poi? Susanna no volevo aggiungere soltanto una cosa al discorso qui prima tu parlavi di coerenza grafica io credo che il fatto di utilizzare gli stili al di là di permetterci di ottenere una buona coerenza grafica ci costringe in qualche modo ad essere proprio coerenti anche dal punto di vista non dico del contenuto ma quanto meno della struttura del contenuto cioè deve esserci una certa razionalità per usare gli stili di quello che è la conseguenzialità che ne so di paragrafi l'idea che un paragrafo è un sottoparagrafo di un capitolo e secondo me questa è una cosa che è positiva al di là del risultato grafico a me è proprio positiva perché il documento diventa più sensato forse non sto usando le parole molto precise ma credo che credo di essere spiegate ti si tratta a capire proprio bene Sofia cioè sono totalmente d'accordo con te c'è un approccio meno casuale rispetto al documento c'è una facilità d'uso che non è da sottovalutare perché poi sai quando poi hai il modello non ti devi altro preoccupare che inserire il contenuto però c'è soprattutto per la parte della strutturazione diciamo forse come conseguenza un bisogno di chiarezza o come tu hai detto giustamente anche di logicità nello sviluppare i contenuti perché tu hai in mente una sorta di struttura e quindi cerchi anche a volte non sempre intenzionalmente ma ti viene naturale di seguire un percorso che è più pensato che è più logico tra l'altro su questo ci sono c'è tanta tante biografie anche aggiuntiva che riguarda sia la parte della scrittura di documenti normali c'è una parte che non abbiamo esplorata molto interessante sui pdf che però ha un po' il limite di necessitare forse l'unico caso l'unico software non sostituibile dal software libero che secondo me Acrobat perché ti consente poi di fare veramente un documento completamente sia accessibile che anche ricco di cose aggiuntive Acrobat ad esempio ha un OCR dentro è la versione non reader che gli consente quando noi riceviamo delle scansioni che sono scansioni di immagini magari o da altri enti o da colleghi di catturare automaticamente il testo e quindi di poterlo riprodurre più facilmente insomma e anche su quello c'è una bella biografia che è proprio sulla costruzione dei pdf anche se l'automatismo offerto dagli ultimi versioni sia di Word che di OpenOffice e di LibroOffice è già qualcosa di molto buono ecco e poi oltre a questo oltre a bibliografia più legate ai documenti c'è molto ricca come sitografia e anche bibliografia sia sulla scrittura sulla semplificazione del linguaggio ma anche sulla scrittura per internet e lì magari se ci vogliamo spostare un attimo io ho bisogno proprio dell'aiuto di Valerio e Gioacchino per spostare un attimo alla nostra lavagna vediamo perché volevo far vedere un paio di contributi che possono essere utili poi per approfondire proprio la scrittura per internet e anche come si dispongono le cose in internet vediamo un po' dove devo andare forse qua in fondo sì Alberto puoi digitare l'indirizzo nella barra sopra la lavagna e questa la lavagna no sono dato sbagliato questo qui è un pannello scusate la lavagna e il pannello sì sarebbe un pannello e puoi digitare l'indirizzo quello su cui mi sto dirigendo vediamo eh no questo qui è un manifesto ecco dove sono io sì come avete arredato bene complimenti non sai cosa è accaduto un inconveniente tecnico era crollato tutto il palazzo abbiamo dovuto rifarlo di nuovo in tempi velocissimi io sono dove c'è Gioacchino è qua giusto sì è qua sì allora dunque un sito il meglio del meglio storicamente l'ho citato il mestiere di scrivere andiamo velocemente a vederlo www.mistieridiscrivere.com eccolo qua vediamo se mi ricordo qua col più lo metto qua in grande in modo da poterlo meglio manipolare è diciamo il sito proprio più diciamo storico forse più storico non si dice in italiano però è il sito per eccellenza sulla scrittura per il web e la curatrice che è Luisa Carrada è considerato forse uno dei riferimenti massimi italiani per la scrittura per internet aveva fatto anche un libro precedente non so se lo ricordate uno con la copertina arancione che mi sembrava si chiamasse proprio scrivere per internet e poi ha fatto una riedizione con uno stile di scrittura anche molto brillante e quindi molto piacevole da leggere e quindi la traduzione se vogliamo del mestiere di scrivere come sito è in quel libro qua che suonano è uno dei libri più interessanti che possiamo leggere sul tema perché è impostato in modo anche non so come dire molto viene in termine affascinante so che non è quello giusto però coinvolgente è anche ricco di ipotesi e strade di approfondimento sono di quei libri che non non hanno paura nel citare anche colleghi o altre persone che lavorano sul campo le citazioni sono sempre azzeccate e portano poi ad approfondimenti veramente di qualità il bello di questo testo è che prende in rassegna tante modalità di scrittura non disdegnando neanche la scrittura per le slide che è un altro elemento di grande interesse si sta rinnovando molto anche questo e peraltro ormai si sta superando la stagione delle slide stile powerpoint per arrivare invece a slide che invece comunicativamente sono costruite in modo diverso mi sembra sulle 24 ore domenica scorsa un interessante articolo proprio sulla ipotetica morte dei powerpoint cioè come visti come una modalità comunicativa che poi in fin dei conti ha depauperato anche la comunicazione tra le persone riducendole a diciamo a elenchi puntati diciamo così ecco e qui secondo me se uno poi naviga all'interno qui vedete no appunti a lavori quaderno o altro di scrittura e link si trova veramente di tutto e di più come consigli che vanno dai consigli di Calvino a consigli invece legati proprio alla sua esperienza c'è anche il blog che adesso è da un po' che non visito però era anche esso ricco di suggestioni e voglio andarvi a farvi vedere una cosa vediamo se lo trovano i quaderni del mestiere di scrivere in particolare vedete anche soltanto i titoli che sono interessanti chissà se lo trovo una cosa che uno quaderno che era stato fatto qualche anno fa che è questo qua ecco tre incontri sulla scrittura tra la scuola la professione e la vita ed è il 2006 non importa era in pratica un qualcosa che ha scritto la Carrada dopo che era venuta l'università di Milano mi sembra la Bocconi a fare degli incontri con con gli studenti e la cosa interessante adesso vediamo se riusciamo ad aprire il contributo e che sono raccolti consigli in preparazione dell'esame di stato per cui persone di noi che insegnano nelle secondarie superiori hanno a disposizione un volumetto un fascicoletto che secondo me sarebbe utile leggere insieme ai nostri studenti non riesco ad aprirlo però avete visto come ci si arriva se siete interessati magari lo metto anche sul forum è proprio quello perché Bocconi Lab era proprio la Bocconi che ha fatto questo intervento ve lo appunto e lo inserisco poi come ecco forse sta prendosi Astro Giucci ha messo direttamente il link così lo potete aprire direttamente voi eccolo qua tre incontri sulla scrittura tra la scuola professione la vita e Luisa Carrada vedrete anche lo stile di scrittura e anche soltanto come in pagina forse ai tempi non si usava tanto i segnalibili non ci sono però va bene non vuol dire vedete anche soltanto come il testo si sviluppa anche soltanto dal punto di vista della leggibilità ecco quindi questo secondo me è un bel esempio di come si scrive di qualcosa che può anche essere dato ai nostri studenti torniamo indietro che si sta scaricando ecco quello è il primo diciamo spunto poi do un secondo anzi nel primo mi permetto di fare ancora un piccolo accenno su un'altra cosa io una volta ho provato a contattare la Carrada perché volevo sentire se era disposta a fare un intervento per un'attività che stavo seguendo io da bravo inesperto e scrivo gentilissima dottoressa Carrada ho apprezzato o altro desiderare sapere sapete no con le classiche forme involute delle persone magari all'inizio che cercano di contattare persone che stimano tanto quindi un'esagerazione quasi una forma che superava la sostanza e mi ricordo la sua risposta purtroppo adesso non ce l'ho più qua da farvela vedere una roba tipo ciao Alberto poi due righe vuote sono libero a questo sentiamoci punto Luisa o Luisa Carrada e lì ho capito anche che c'è anche da imparare probabilmente nella forma della comunicazione via mail certamente scrivendo la Carrada non è come scrivere una lettera burocratica formale che necessita magari di qualche aggettivo in più però la scrittura attraverso le mail una scrittura asciutta una scrittura diretta una scrittura che lascia spazi bianchi non è una scrittura di una pagina che al limite diventa soltanto un allegato e anche questi elementi qua della scrittura delle mail peraltro sono presenti anche nei suoi lavori in lavori di altri sono altri elementi molto interessanti però l'altra cosa che volevo e poi però la smetto perché se no vi tolgo tutto il tempo come spazi per confrontarci tra di noi e invece Giacomo Mazon non so se qualcuno di voi lo conosce andiamo un attimo a cercarci il contributo secondo me Giacomo Mazon ha scritto due cose molto interessanti una è sulla scrittura trattata scrive sempre cose interessanti ma in particolare sulla scrittura per internet sulla usabilità dei testi in internet e poi per chi interessa anche sulle presentazioni slide share Mazon mi sembra che sia un riferimento che non ho dato se l'ho dato scuso un attimo ma piace talmente tanto che lo ve lo ripropongo ecco questo contributo interessante che è sulla usabilità scrittura dei testi per il web forse l'ho dato in risposta al forum a qualcuno vi consiglierei di leggerlo perché prende in esame a 360 gradi proprio l'approccio che si ha di fronte al testo e quindi sottolinea non so alcuni errori alcune cattive abitudini mostra come si muove lo sguardo da parte del navigatore ed ha dei consigli molto interessanti anche per la gestione dei testi non tanto in modalità giornalistica ma in modalità comunicativa insistendo molto su una cosa che poi cercheremo di mettere in pratica che è la cura del cosiddetto microcontenuto che nel web è quello che sta attorno al contenuto principale e gli dà valore gli dà valore andando poi a diciamo enfatizzare valorizzandolo il ruolo del cosiddetto redattore web cioè colui o colei che ha il compito di servire alla comunicazione nel sito e allora i microcontenuti sono i titoli sono i testi dei link sono i riassunti che Mazon chiama strilli sono anche se vogliamo l'arte del taggare cioè di attribuire a un contenuto un'etichetta una parola chiave che genera in automatico degli archivi proprio per argomento l'altro invece diciamo tra i tanti secondo me sono mediamente tutti interessanti i contributi di Giacomo Mazon che tra l'altro è uno di quei formatore lui è romano che non disdegna nel mettere a disposizione risorse è quello invece sulle presentazioni vediamo un po' dove possiamo andare andiamo sotto becchiamo Giacomo Mazon andiamo a vedere comando grazie ancora a Maestro Giuseppe sarebbe il nostro collega del corso gli ci dà il link in modo che possiamo navigare anche per conto nostro comunque il contributo è proprio la presentazione efficace con le slide e anche esso secondo me è di grande interesse sfatto alcuni luoghi comuni e ci apre così delle possibilità a cui magari non sempre abbiamo pensato oppure se abbiamo pensato ci sembrano naturali anche per come sono poste per curare anche questo aspetto che insomma può avere i suoi interessi bene mi scuso un attimo con voi per questo diciamo questi due piccoli contributi e se imparo a uscire da qua credo col meno eccomi qua vi cedo la parola può essere sia riferito a quello che abbiamo visto ma ritorniamo pure a domande dubbi perplessità idee riferito a quello che abbiamo fatto finora sono le 22.16 possiamo fare magari un quarto d'ora e poi magari facciamo così l'apertura del modulo successivo dicevo che è una cosa interessante che mi ha suggerito un po' così questa modalità di fare le slide più a livello iconografico emotivo piuttosto che a livello scritto con tante parole è un esperimento che si usa un po' nelle pubbliche amministrazioni o anche nel mondo dei blogger che si chiama presentazioni in stile Ignite che è un format utilizzato ripeto soprattutto nei barcamp che funziona in questo modo tutte le persone che sono interessate a presentare un'idea hanno 5 minuti a disposizione per rappresentarla attraverso un numero predefinito di slide che sono 20 che si susseguono 15 secondi uno dopo l'altra quindi la capacità del relatore è nel raccontare un'idea una proposta con poche parole qualche slide e poco scritto cercando di essere i più convincenti possibili poi alla fine una volta che è terminata la parte diciamo introduttiva di relazioni le persone vanno poi a costruire dei tavoli che si generano per interesse a seconda di quello che uno magari ha sentito e che ha catturato maggiormente sia il proprio interesse che anche il proprio desiderio di approfondimento una cosa così interessante potrebbe essere provare un po' a scuola un qualcosa di simile ovviamente con un sacco di cautela aggiuntiva perché noi sappiamo che a scuola poi abbiamo magari lo studente che ha difficoltà di parola lo studente timido persona che fatica ad esprimersi verbalmente e magari si può immaginare più che non so come dire una consegna individuale un qualcosa di gruppo in modo che ciascuno possa dare un suo contributo senza essere messo troppo in difficoltà però può essere interessante proprio perché in questo modo al centro diventa più non so come dire la riproduzione imparata memoria di quattro cose ma la capacità sia di esprimerle che anche di rappresentarla nelle slide giocando appunto sull'aspetto comunicativo forte di tre quattro cose non di più da dire quando abbiamo parlato un po' di queste cose ad esempio si diceva ma sarebbe anche interessante proporlo come uno delle tecniche o dei modi per l'esame di stato interessante ripeto il dubbio rimane un po' quello del rispetto delle difficoltà di alcuni studenti che sia per blocchi emotivi sia per difficoltà magari linguistiche possono incontrare qualche problema in più nel momento in cui sono fortemente contenuto nei tempi però in ogni caso trovo una delle tante piccole cose che si possono fare che possono avere il loro interesse avete mai assistito a voi qualcosa di questo tipo cioè anche in altri ambiti sia di formazione o altro di presentazioni scusate che stiamo un po' cambiando argomento ma poi ritorniamo ai nostri siti fatti in questo modo comunque il sito è se vi interessa ripeto è molto gettonato più per la pubblica amministrazione in senso lato che nel come usi didattiche si chiama www.igniteitalia.org www.igniteitalia.org e quello infatti di ripresentazione orrende purtroppo è una capita a qualsiasi livello anche lì c'è tutta una teoria dell'attenzione nei confronti dell'uditorio insomma ci sono pensiamo ad esempio quando abbiamo quelle presentazioni tutte super scritte che non si riesce a leggere una parola perché la ricerca dei contrasti del contrasto giusto lì il problema è riuscire quando sei in quinta fila a leggere se non riesci a leggere lo ti chiedi ma allora che motivo c'è perché l'hai scritto in primis no ignite dovrebbe essere adesso io lo scrivo qua vado a memoria voi provate direttamente igniteitalia.org le cose da evitare in primis nel powerpoint è una domanda che ha un grande familiarità con quello che abbiamo fatto con i documenti quindi chiederei a voi di provare a rispondere alla domanda che ha posto Wanda secondo voi quali sono le cose? certo anche un problema di accessibilità è verissimo perché l'accessibilità non è assolutamente una prerogativa del web a me piace pensare dal punto di vista positivo come un qualcosa di relazione grazie Sofia eliminare i punti elenco secondo quello detto certo no animazioni intervenite anche verbalmente anche via audio se lo ritenete direi di sì su che cosa? sulle animazioni come mai? vediamo in che senso però intendi animazioni perché magari è la stessa cosa però vista dal punto di vista diversi questo alternativo alle immagini gioca nel momento in cui la presentazione è messa a disposizione come contenuto web o allegato mail certo quindi non certo delle gif animate non certo parlava Giuseppe neanche degli effetti alla powerpoint di transizione altro ma intendevi per animazione invece qualcosa legata ai filmati o animazione didattica forse buon contrasto anch'esso importante tanto più importante quanto meno è favorevole alla condizione ambientale per cui magari siamo in una sala grande con poco oscurata questo è importante Lori una sala illuminata e una sala scura condizionano come la dimensione un bravo relatore si informa di queste cose e se non hai informazioni pensa a una presentazione in condizioni non ottimali puoi dosare il testo se usiamo titoli non è che sia poi indispensabile usare il titolo della slide perché a volte anche una slide con due parole messe in un punto particolare sono più significative della slide tradizionale ma se usiamo titoli che siano significativi poi ci sono anche tecniche diverse c'è chi concepisce una presentazione con stile tra virgolette narrativo per cui c'è un esordio una serie di argomentazioni un qualcosa che succede quasi come se fosse una storia per poi ritornare da dove si è iniziati e chi invece le concepisce in modo quasi più analogico legato proprio più all'aspetto emotivo tasti di navigazione mediamente però ci sono nel diciamo nel momento in cui tu la metti a disposizione è questo è vero Lore dipende molto dal contesto d'uso alla domanda di Wanda io direi dipende potrebbe a seconda anche lì di dove va inserita come va inserita e il contesto in cui viene a essere gestita può esserci la necessità di fare delle slide che vanno per conto loro con l'automatismo tipo stile Ignite che si diciamo susseguono in modo automatico e relatore dipende può esserci anche nel caso in cui si susseguono in modo automatico ovviamente se invece sono in modo manuale è obbligatorio e poi un problema importante e poi mettere in rete queste slide se sono un contributo a qualcosa è bene che girino ad esempio Slideshare è uno degli ambienti insieme a Scribd o altri diputati proprio alla diffusione delle slide esatto Sofia questo è proprio uno dei considerati uno non so se ci fosse un decalogo delle cose da non fare è leggere è un po' come quando noi andavamo a scuola il nostro magari insegnante ci faceva lezione leggendo i suoi appunti e basta le slide come dice Lori a volte sono proprio un supporto un punto sai dove parti non sai dove arrivi perché poi dopo diventano anche degli stimoli per aprire per anche intraprendere dei percorsi di approfondimento non sempre prevedibili perché poi ci può essere anche la partecipazione di chi ascolta quindi quelli con ipertesti con più link sono molto strutturati in questo caso e quindi sono più adatti per ospitare materiale didattico magari lasciato a disposizione numero di slide sono andato un po' su dice Carmen compatibili col tempo a disposizione poche ma buone è fondamentale al di là dello stile Ignite c'è chi dice non superare la dozzina scriverci poco e lasciarli come come diciamo come un qualcosa che aiuta come supporto ma non come la sostituzione sono tutto d'accordo cioè in pratica insieme avete messo quelle che sono poi le regole fondamentali o perlomeno fondamentali che molti studiosi indicano come diciamo punti da tenere presente poi c'è il discorso dello sfondo sempre tra i lavori di Mason c'è una presentazione interessante sugli sfondi improbabili che spesso ci troviamo di fronte a presentazione anche a volte anche di enti molto importanti e quindi anche questa diciamo scelta del testo dello sfondo del tipo di carattere la dimensione del carattere ha rilevanza comunicativa sì in effetti è vero il file musicale è che peso ha nell'insieme dipende dipende come uno lo concepisce se uno immagina una slide come una storia un sottofondo musicale può avere senso nel momento in cui è come un'opera terminata e come un'opera terminata utilizza appunto a volte anche file musicali di sfondo come sottofondo o altro io la vedrei in questi termini poi naturalmente le slide di per seco possono contenere incorporare contenuti multimediali possono anche video anche filmati ma questo è un altro discorso c'è la possibilità sempre su GlydeShare di fare qualcosa simile a quello che ho provato a fare con i video tutorial con YouTube si può fare anche con le slide quando uno si crea un account su questo diciamo ambiente social che ha l'unico difetto di essere un po' invaso da pubblicità può in una versione perlomeno gratuita può inserire un mp3 che può essere proprio la spiegazione del relatore diventa assolutamente contenuto didattico da lasciare anche agli studenti assenti oppure come contributo per il ripasso è utile molto per il docente che si sente tra l'altro e quindi ha un ritorno in diretta unico di come parla magari anche delle diciamo piccole incertezze che ciascuno di noi ha e che ci possono aiutare magari a diventare sempre più chiari sì Sofia dunque vediamo l'elenco odio quando apre un sito e parte la musichetta verissimo sul sito è considerato elemento ormai un po' da tra virgolette amatoriale come le gif animate che è vero è un po' non so se vi ricordate una volta i siti quando c'era la mania delle animazioni flash avevano la sigla ci scambiava un sito come un programma televisivo e cosa hanno capito che quei siti con la sigla erano molto diciamo fastidiosi e la gente poi non ci andava più per cui adesso è difficile trovare un sito con la sigla nel senso che se uno magari a volte ha un contenuto di animazione fatto con queste tecnologie il consiglio è farlo attivare solo se uno è interessato un po' come se fosse una diciamo uno spazio a disposizione uno se vuole fa play e se no lo lascia perdere e questo mi vanda non so dirti quale sia la nuova frontiera a me sembrerebbe di dire che un qualcosa che adesso sta prendendo più piede dal punto di vista comunicativo la slide non è affatto morte che ne dica quella le presentazioni quella quell'autore sono un po' le mappe nel senso che si stanno diffondendo moltissimo degli strumenti per gestire momenti formativi attraverso mappe a volte condivise mappe concettuali con al proprio interno possibilità larghe di inserimento di contenuti che possono essere slide torniamo a riprendere per i capelli ma possono essere siti possono essere video possono essere pdf testi o altro prima di presi dico un'altra cosa per le mappe concettuali due riferimenti direi tra quelli che adesso stanno prendendo più piede uno si chiama mindomo e l'altro mindmeister mi sembra si scrive così nella loro versione free consentono purtroppo di salvare solo tre mappe che poi uno può condividere perché sono mappe collaborative peraltro in mindmaster c'è anche l'applicazione sia per ipad iphone che per mondo android per mindomo non lo so e si proprio mindmaster e l'altro gli ho scritti prima adesso ne trovo più ah non ho dato l'invio scusate mindomo l'altro e adesso prediligo mindomo mindmaster l'ho provato una volta lo scorso anno mi era piaciuto però poi mi sono trovato molto bene con il primo e quindi utilizzo quello insomma si fanno delle cose con diciamo una modalità comunicativa diversa è molto bello riuscire a non so come dire rappresentare graficamente in uno spazio contenuto un qualcosa di più ampio che poi può essere approfondito secondo percorsi diversi e secondo anche quello che sono poi le necessità di chi è con te in quel momento e rimane poi il contributo che uno ce l'ha tra virgolette se lo porta a casa ce l'ha a disposizione lo può arricchire lo può modificare rimane un qualcosa in continua evoluzione invece le slide molto spesso si vede quando uno deve riutilizzarle devi rifare da zero oppure prendi un pezzettino di qua e lo togli però è come se fossero un fatto compiuto invece la mappa ha in sé secondo me tutti questi agganci e spiragli di approfondimento di aggiunta e di eliminazione che la rende comunque un elemento vivo senza che si debba replicare n volte facendo delle fotocopie grosso modo dello stesso lavoro mi è piaciuto tanto che poi sono anche così buttato nella versione a pagamento però un pagamento debole meno di 50 dollari mi sembra in un anno e hai se non sbaglio mappe illimitate e possibilità tra l'altro di esportazione della mappa in vari formati però provarle può essere interessante perché sono ambienti ripeto che secondo me potrebbero essere un'alternativa alla presentazione con l'altra alternativa che è non far uso di nulla cioè quello di invece ritornare chissà se ha ancora senso alla parola con supporto che il supporto è su necessità un po' come siamo noi qua noi stiamo parlando se abbiamo bisogno di accedere a dei contenuti accediamo perché effettivamente in rete troviamo uno e più spunti che possono aiutarci vanda poi interessantissima questa cosa qua posso darti la parola se tu hai voglio intervenire direttamente perché interessa anche a me capire secondo me tu la usi a scuola ah ho capito niente l'hai mai usato questi strumenti e come come li usi come qualcuno di questi magari altri ancora ecco i ragazzi come si muovono perché diventano probabilmente diciamo un qualcosa che ti pone forse in modo anche in posizione meno passiva rispetto ad esempio una cosa tipica delle slide a scuola o anche in una scuola delle verità e chi ascolta tende a riprodurla identica non so se ti hai mai visto quelli che ad esempio nei loro blocchi ti fanno esattamente una sorta di rettangolo che rappresenta la slide e hanno necessità di ricopiare parola per parola meno che uno invece provi quelle tecniche differenti e su questo ad esempio mi piace anticiparvi poi una cosa chissà se riusciamo a metterle in atto potremmo anche collaborare insieme nella realizzazione se qualcuno fosse interessato non so se a breve però è un vecchio vecchio da un po' di tempo che ci penso siamo ancora riusciti a organizzarlo ma ormai ci stiamo lavorando che è questo ritorno un attimo al discorso delle slide le slide attualmente nella versione diciamo più comunicativamente efficace necessitano di immagini di vignette cioè l'aspetto iconografico si è scoperto essere un qualcosa di grande aiuto allora i professionisti delle presentazioni cosa fanno vanno in siti e si comprano fondamentalmente delle immagini l'idea che stiamo cercando di mettere in pratica è questa a scuola tra docenti persone che vivono a scuola studente ovviamente e quant'altro abbiamo un ipotetico archivio di immagini interessanti enorme che sono le fotografie sono le vignette sono i disegni immaginiamo studenti che lavorano magari in dirizzi grafici e che si dilettono a fare anche delle cose molto interessanti uno dice ma caspetta se io avessi quell'elemento nella mia slide voglio esprimere quel concetto quello mi aiuta ecco l'idea che stiamo cercando di realizzare è quella di creare una sorta di archivio dove persone di scuola possano inserire liberamente dei propri contributi suddividendolo magari per tipologia può essere vignette può essere disegni può essere fotografie liberandoli dai diritti d'autore tutti noi siamo dilettanti quando fotografiamo anche a me piace farlo ma tanti altri colleghi so che sono anche molto bravi e hanno anche piacere che le loro opere si vedano e circolino e il studente ha altrettanto poi c'è quello che sa disegnare questo può valere un po' a diversi livelli di scuola ecco mettere un archivio di libero scambio di questi contributi con il diciamo il mutuo accordo che più che un accordo è proprio diciamo parte integrante dell'idea che noi mettiamo l'autore nome cognome classe scuola di appartenenza e in più liberiamo quella risorsa nell'uso delle slide di chi appunto accede a questi portali liberi che saremmo noi docenti secondo me sarebbe una cosa interessante quindi questa iniziativa di dare un luogo a un qualcosa che poi serve a fare slide migliori ecco se siete interessati poi vi farò avere diciamo i riferimenti ah ecco Sofia interessante questo grazie che mi dai anche questo bel a matematite fa una cosa di questo tipo bello immagini per la matematica ecco molto molto bella questa cosa qua sì e direi simile con un catalogo che bella idea ecco quindi chissà che riusciamo poi a realizzare anche questa questa cosettina secondo me è una cosa che può avere interesse naturalmente senza la pretesa di essere di tutti anche ciascuno nel proprio territorio lo può mettere in atto può essere un'idea bene se volete ancora dire qualcosa ecco poi vi faccio sapere se riusciamo a concretizzare stiamo cercando l'ambiente prima eravamo passati da PCAS ma forse Flickr si presta di più perché Album Set tutta una serie di diciamo risorse anche di taggatura che lo rendono interessante e con questo direi che possiamo quasi proprio chiudere questi primi due incontri che sono attorno al sito per poi invece entrare adesso nella parte più più operativa io ti chiamavo Calvo ma tu sei Calvo Bonetto è nome d'arte invece è Angelo giusto qua siamo confrontati bene in form ti ho ben presente vediamo un po' allora questo modulino che parte parterà domani con gli ultimi materiali conto di mettere domani sera alcuni li ho già pronti è quello di cominciare a dare un vestito al sito il vestito principale sono fondamentalmente i menu non scegliamo che cosa mettere perché noi apparteniamo a scuole diverse ci sono esigenze diverse ma vediamo come inserire contenuti dalla versione 3.0 in avanti Wordpress consente una gestione automatizzata dei menu dal cosiddetto pannello di amministrazione allora io andrei un attimo sul nostro riferimento di sito per vederlo insieme allora dunque andiamo qua vado su quello che uso adesso per fare prove che è www.annitel.net se non sbaglio o .org non mi ricordo il sito è .org o .net grazie Sofia e poi è quello che uso io adesso è corso WP se non sbaglio andiamo ok entro qua mi collego allora a questo punto che cos'è è dove qualcosa in più rispetto a voi sono andato un po' avanti perché ho voluto fare già le due però va bene anche se è già un po' vestito questo sito sono andato avanti un pezzettino per creare video tutorial dei contenuti del nuovo modulo che da domani sera se non tutti almeno in buona parte della settimana metterò a disposizione però ugualmente anche se l'abbiamo fatto posso fare un lavoro a ritroso per mostrare alcuni passaggi secondo me utili interessanti che spiegano anche un pochettino diciamo di questo modello allora adesso il mio problema è ricordarmi non ho avuto un momento di panico perché uso quasi sempre la stessa password però qui ne ho usato una diversa e temerlo a dimenticarla allora questa è la nostra sono tornato indietro come mai ok questa è la nostra bacheca questo è quello che vogliamo ottenere vediamo un attimo il vestito nuovo in cosa consiste non nell'intervento sulla testata noi questo logo lo toglieremo qui metteremo il nome della scuola qui metteremo le parti diciamo informative che sono quelle importanti quelle che il visitatore vede subito vuole sapere chi siete un elemento di riconoscibilità che è un logo se l'avete bene se non l'avete potete fare un'idea potrebbe essere un concorso interno per realizzarlo e poi dove siete posto luogo provincia telefono PEC codice fiscale sono elementi questi imprescindibili importanti da inserire nella nostra proposta la mettiamo qua in testata perché riteniamo siano la prima cosa che uno deve poter vedere e la cosa che è nuova rispetto so che qualcuno è andato avanti però rispetto alla consegna dell'altra volta è la presenza di tre menu orizzontali e di un menu fatto a box verticale con tanti box che si possono poi mettere uno sotto l'altro sono tre modalità diverse mentre i box verticali questi qua sono come funzione nativa di WordPress da 3.0 in avanti cioè si possono realizzare con la barra degli strumenti dell'amministrazione questi qui sono state la prima variante che abbiamo fatto noi sul tema abbiamo creato alcune righe di codice dico abbiamo perché sono tutti frutti di lavori collaborativi cioè ad esempio tendo un pochettino di comunicazione di accessibilità di html di fogli di stile ma non di php altri invece hanno più competenze ad esempio su php e l'hanno fatto loro in modo di creare un automatismo di gestione dei menu orizzontali che invece non era presente nella versione attuale di WordPress sono state aggiunte le righe di codice a un file che si chiama function.php e questo ha consentito l'automatismo che vedrete nella prossima lezione che io adesso anticipo andiamo a vedere allora come realizzare ad esempio il menu che sta qua sopra per fare questo andiamo nell'area di amministrazione e dobbiamo creare per prima cosa i contenuti che sono le pagine le pagine si creano facilmente cliccando in corrispondenza di nuovo ecco aspetta ogni tanto esce vediamo se mancare facendo il clic esce meno pagina aggiungi nuova uno aggiunge qua mette il nome della pagina e poi la pubblica automaticamente la pagina è stata realizzata queste sono le pagine cosiddette tradizionali però mi esce tanto non riesco capire bene il motivo forse è un discorso legato un po' all'ambiente chi lo sa vediamo se riusciamo adesso creata la pagina ripeto nella modalità proprio più veloce possibile il nome della pagina per il momento non mettiamo vuota di contenuti e semplicemente niente non riesco proprio a farlo la si pubblica poi avrete ma questo lo vedrete poi nel video tutorial lo vediamo adesso non in fase quindi di amministrazione avrete la possibilità di andare in aspetto menu e di diciamo dire che quella pagina va a finire da qualche parte saluti Avanda buonanotte hai ragione anche perché ho tirato un po' lunga quindi mi scuso anche con te che magari ho parlato troppo prima e voi in pratica create queste pagine normali poi le andate a inserire in un menu che avete creato voi ad esempio questo l'ho chiamato menu superiore gli ho detto qui ci vanno A B C e D in automatico una volta che voi associate il menu 1 al menu superiore ve lo trovate qua perché è il sistema che è già predisposto per mettere tre tipi di menu orizzontali quello superiore che è un po' di servizio di informazioni sul sito dove siamo la scuola o altro poi abbiamo quello qua che è invece un menu più complesso perché è un menu fatto dai soggetti che abitano la scuola e poi abbiamo in basso un menu che è sotto il piedi pagina che invece contiene i crediti note legali privacy o altro comunque per me va a sottolineare ma lo vedrete meglio nel video tutorial e nella guida passo a passo che questi menu sono realizzati attraverso il passaggio pagina creazione di menu associare il menu alla sua posizione invece quelli laterali verticali sono gestiti direttamente da wordpress sempre da aspetto menu mi rendo conto che parlare senza essere in area di amministrazione è un po' un parlare vuoto per cui lascio poi diciamo più l'aspetto magari di confronto alla parte del forum però l'obiettivo è questo dare questo vestito che è un vestito fondamentalmente legato alla struttura del sito i menu di navigazione questi qua nella parte gli orizzontali più il verticale e il sinistra saranno sempre presenti in tutto il sito poi dopo non ho ancora deciso un giorno di tempo per farlo come completare nella lezione c'era scritto quello di personalizzare un po' l'home page però forse faccio una variazione perché dalle domande ammese nel forum sembra aver capito che c'è una voglia di pubblicare subito qualcosa allora magari anticipo la pubblicazione degli articoli faccio uno scambio di contenuti nella seconda settimana però andremo avanti quindi impareremo e sarà forse la settimana più densa non questa quella dopo impareremo a inserire articoli come contenuti accessibili e quindi utilizzeremo una si dice plugin un'estensione di wordpress che ci assiste e ci facilita nel fare un copy e incolla se vogliamo però pensato dal laboratorio dei testi all'edito di wordpress e riutilizzeremo alcune delle cose che abbiamo visto quando abbiamo invece steso una relazione con word mi scuso del fatto che non ho potuto essere precisissimo però non riuscivo tanto a stare nel pannello di amministrazione mi sposto un attimo adesso guardo un attimo la chat perché magari ecco buonanotte giustamente adesso ah no forse buonanotte però era era a chi è andato via prima adesso bene allora cosa pensate ci si ah sono trovata Evanda se volete ancora qualche minuto di confronto se no ci ritroviamo poi nella piattaforma ok certo poi nel tutorial almeno questa parte qua del menu è messa passo a passo per cui tra l'altro ho visto che alcuni li ho già fatti perché avete ritrovato le ho messi domenica questi due video tutorial sul menu visto che qualcuno di voi li ha già inseriti quindi ha già fatto tre quarti della lezione prossima domanda insomma ai vergognarsi Sofia buonanotte a chi adesso angelo mi sembra che ci lascia a presto a tutto ecco domanda però di Sofia permalink RSS perché ti vergogno sono anzi domande di RSS in particolare sono magari cose che non tutti conosciamo per cui era la domanda intesa che cosa si intende aspetta che qua non riesco a spostarmi certo Carmen buonanotte ma adesso dopo questo hai ragione fare un glossario sarebbe una bella idea di RSS